ciao ragazzi volevo presentarvi questo caricabatterie wireless fast charge da auto con attacco a ventosa ma anche con attacco per la bocchetta perché ci sia anche l'adattatore per le fessure molto quotato è un rating 5 stelle me l'hanno mandato e devo dire che è veramente molto performante un usb type c quindi ha già l'ingresso type c automatico con sensore di sferamento con batterie interne che puoi aprire anche le alette se il se la macchina è spenta quindi assolutamente buoni materiali io l'ho già montato vedete staffa regolabile in più posizioni altezza lunghezza questo gira a 360 gradi quindi possiamo tranquillamente muoverlo e senza nessun tipo di problema sono me lo sono messo comodo come comodo deve essere per me quando vado in giro ovviamente però è completamente regolabile come funziona beh una volta inserite le chiavi della macchina noi giriamo ovviamente il quadro e facciamo partire l'alimentazione con cosa ve lo faccio vedere dovete avere per la ricarica rapida un quick 3.0 che è un caricatore d'auto come questo che ha sia un ingresso 2 4 a ma anche un ingresso 3.0 che per la ricarica rapida come questo qua che ho di sopra allora se avete un ingresso 3.0 come questo quick charge riuscite a fare la ricarica rapida se no va in ricarica standard una volta inserito automaticamente aprirà le alette vedete ha aperto le alette in automatico per accogliere il telefono una volta posizionato il telefono dritto lui si richiude da solo vedete la bellezza di questa cosa e va già in ricarica rapida come vedete ricarica rapida wireless in corso la comodità quale a parte l'appoggio fortissimo la ventosa un gancio molto forte anche col caldo tende anche a rincollarsi a non staccarsi materiali robusti è che poi per sbloccarlo dobbiamo sempre mettere il dito quindi molto sicuro rimettiamo il dito qua sotto si aprono le alette oppure le richiudiamo e il telefono è sempre in sicurezza quindi ricarica rapida wireless sia standard abbiamo la possibilità qua dietro di avere l'attacco anche per le bocchette dell'aria quindi possono cari attaccarlo anche le bocchette dell'aria a me è più comodo con la ventosa ci vuole comunque un disco di questo tipo bioadesivo per ospitare la ventosa attaccandola sul cruscotto direttamente se non avete materiali lisci difficilmente terra bisogna prendere un disco bioadesivo come questo qua che avevo già fisso io usb type c 2.0 ma la particolarità di questo che mi è piaciuta molto oltre la bellezza estetica i materiali buoni rispetto anche all'altro come avevano mandato questo è migliore è che anche se spengo la macchina o una batteria interna vedete che mi permette per 30 volte di riprendere il telefono e di richiudere e questo veramente ne fa adesso è un po scarico non si è richiuso ma me l'ha aperto questo cosa vuol dire che abbiamo la possibilità di rialloggiare sempre il telefono per 30 volte chiudere aprire praticamente avete aprite il telefono esce anche a macchina spenta poi cosa succede dall'alimentazione posso richiudere io le alette sfiorando lui si richiude questa è una bella cosa perché dopo un'ora di utilizzo la sua batteria interna si ricarica del tutto e ci permette di avere 30 aperture a macchina aspetti quindi voi spegnete la macchina mettete il dito e lui si riapre e viene dal telefono altri invece cosa fai spegnete la macchina se non hanno il coso manuale non potete più aprirlo dovete per forza dare alimentazione cioè mettere il quadro per farlo uscire scomodo dovete sempre mettere il quadro alimentare la batteria della macchina invece questa questa genialata della batteria interna ci permette per 30 volte quando la sua batteria è completamente carica di ridarci il telefono quindi secondo me un'altra cosa tecnicamente molto interessante sui 28 29 euro su amazon si trova quindi un prezzo assolutamente eccellente per un prodotto che in giro è sui 50 60 euro amazon lo vende a 29 28 euro qui c'è addirittura ancora il film di protezione che è nuovo quindi lo sto utilizzando con una cover scusate in gomma da qualche millimetro e non ha problemi nell'andare in ricarica in più c'è ancora la plastica protettiva del nuovo sul sensore della ricarica e lo prendeva comunque veramente è ottimo sia per il prezzo sia per la qualità del prodotto e per tutto il tutto diciamo la fattura con la fattura di come composto il prodotto cavo è ovviamente in dotazione usb type c non è in dotazione ovviamente questo ve lo dico già questo qua ci sono alcuni che lo danno a 35 euro qualche caricatore ce l'ha questo costa 7 euro se prende a parte l'ho preso di questo qua su amazon senza problemi quindi un prodotto sull'utente consigliato per rapporto qualità prezzo eccellente un caricatore wireless veramente di ottima di ottima qualità il suo nome non è un nome molto complesso molto complesso omeril il suo nome omeril ma poi i nomi dei caricabatterie wireless non sono un problema l'importante che funzioni bene poi nel link in descrizione del video troverete tutto tutto per poter andare anche sul link eventualmente per acquistarlo ciao e grazie come sempre alle prossime